È bello essere ricompensati per il proprio tempo, vero? Questo è esattamente quello che fa Tattoo. Ogni volta che qualcuno mette like o commenta un tuo post, vieni premiato. Che te ne pare? Ti iscrivi e vieni premiato. Pubblichi una foto o un video e per ogni like, visualizzazione, commento e condivisione vieni premiato. Anche se qualcuno ti aggiunge alla propria lista di amici. Diciamo poi che inviti Sara a iscriversi. Ma non solo Sara, inviti tantissimi amici. Loro vengono premiati e tu vieni premiato insieme a loro per tutte le loro attività. A vita! Bello, no? Questi premi arrivano sotto forma di TtuCoin, depositati direttamente nel tuo portafoglio digitale. Cosa puoi fare con i TtuCoin? Li puoi spendere sull'e-commerce? O utilizzarli per partecipare alle aste? Dove troverai prodotti ed esperienze uniche? Come la visita a un set durante le riprese, un meet and greet con celebrities o l'autografo del tuo attore preferito? Il nostro obiettivo è condividere il valore creato con i nostri utenti. Per tutte le attività su Tata2, come postare contenuti, ricevere like, commenti, visualizzazioni e condivisioni, vieni premiato. Tata2, la piattaforma che dà valore al tuo tempo.